The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Buonasera, edizione straordinaria del TG5. Siamo in attesa di un intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Forse nuove misure più drastiche per contenere il contagio e arginare l'emergenza coronavirus. Cara Italia, cari italiani, vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre come l'Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. Pensiamo che per la drammaticità della pandemia ci sia bisogno di un governo più forte. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento. perché conferiscono la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Dare immediatamente vita a un nuovo governo, adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti. Il professor Mario Draghi, presidente del Consiglio di Unistri. Grazie. Grazie. Tornare alla crescita. Oggi è questa la priorità assoluta della politica economica italiana.